Musica 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 Grazie. 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 45. Bravissima. 29. 15. Bravissima. 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 Buon arco finale. Buon arco finale. Bene, bene, bene. Fino sotto l'arco e dai. Dai f softanta! Ne vado ai ris pickleball, dai. Buon arco a sfondo. Eкой! E' questa scuola endogalana. Ass Muninho. Fino sotto l'arco. Vai, 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 brava. Eccola lì, bravissima. Sono bravi però. Ben, 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 bravissimi. A prestazione comodale dietro ai canti. Una finale, speciale per punta. Premono, premono. Ha sta fatta la vincitrice con Andrea Pagalotti. E' la balassa il patto. E' buon patto, è velocissimo, eh. Molto, molto, molto gelosi. Sta fatta la vincitrice con Andrea Pagalotti. E' buon patto, è velocissimo, eh. Molto, molto, molto gelosi. Sta fatta la vincitrice con Andrea Pagalotti. Re described con Andrea Pagalotti. E' un macמolo di fatta la vincitrice. Anche l'acleterata. E' appartamento inMR. Ed è vero squadra da tre tanti. E' l'acqua. E' l'acqua. Ant Sunday sono bravi. E ne è Tempolo di ho peggio, la vostra stagione avvincitrice con Andrea Pagalotti. 76 e 79 arriva il 91 ecco qua e arriva il desiderio Martini con il terreno 68 grande siglio arriva il numero 86 e 81 vicinissimi 84 e carabinio fai lì con il terreno 85 e 77 grazie a tutti e la raffaella con il terreno 85 e luce e la raffaella bravissima bene bene ecco qua che l'abbia fatto scottare in questo momento lui fa guarda scottare da solo vai vai vieni 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 la raffaella la 92 sta arrivando sta arrivando a ripiedere lombardi 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 si prepara lombardi 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 il bambardi lombardi 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 la raffaella tutti i campi arrivano anche il 73, bravissima, bravissima anche, era la prova di Portini anche Maier, Martino Boscani partito, sta avendo 91 il torneo, Marco Rosina e Paolo, guardiamo la foto per tutti, vai Paolo, 48, eccolo qui, pastori avanti, vai Monica, sta avendo 75, 85 e 76, bravi Monica, prima, 8 della prova di Barbara, vai Barbara, è pronta per il cambio, ecco qui, aspetta numero 78, Carmine Federico si prepara, Patrizio, ecco qua, Fabrizio è prontissimo, va Paolo, dalle Elisabetta è lì, è pronta, sta frenendo, vai Paolo, Elisabetta Falco è la signora dei ragazzi, dell'Atletica Centa Poli, con Luda Boscani, parola del genere, il edificio è il primo trattamento delvertente, ci주세요 venendo nel parte di Barrios, Cattolini, 8 della prova di Speciale, merivare 26 del unserem a me male Diego Ello Vini, in quinta posizione, con la quale se sta avendo con la 76, con forza la produccia, un paio, Rai L'Oxford, Ello delle due parole, con la stafetta con mostra ce lo devo dire, più sempre, Vini Dello, Rai, Inferrio, con altri tre cappesi, Luise Milani, Canguino, stesso quarto , son un po'dogsacano, so metto nel caro e con Rai, ragazzi, che... dai 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 arriva lo staffetto 36 dai Vito Forzo vede? Antonio qua arriva rinfora ma sonauro come noi l'espegna di allo stato niente rinforza 110 4 abda 7 6 7 arriva benissima la prima di balle 58 79 all'arrivo la staffetta composta la campofenna che non è ragionata in questo momento la festa numero 77 guardate cosa per le attritte grande idea praticamente è anche si sono i ciciri grazie giusto Elisabetta in compagnia di Paola Teandro e allora classifica maschile grazie guardatele va sembra che non hanno neanche corso seconda squadra classificata mentre facciamo la foto alla terra noi le chiamiamo si preparano un grande applauso per le teniamo anche a loro sinistra buon appetito a tutti buon appetito grazie grazie su col bicchiere dov'è il bicchiere della birra? su sta bicchiere della birra su salute grazie 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 a tutti.